Buongiorno, sono Gianpaolo dalla Pasolini Auto di Gussago in provincia di Brescia. Oggi vi presento una splendida Renault Cajar, 1.5 DCI, immatricolata nell'anno 2016 e con 95.000 km percorsi. Vettura top di gamma, infatti una versione Bose. Abbiamo fari LED, ruote in lega spazzolate 19 pollici bicolore, vernice metallizzata, vetri posteriori oscurati, sensori di parcheggio, telecamera per retromarcia. Questa vettura ha il cambio meccanico, naturalmente risponde alla normativa anti-inquinamento Euro 6. Vi mostro gli interni. Abbiamo il sistema Keyless Go, sedili sportivi, pelle e tessuto tecnico, volante multifunzione dotato anche di cruise control. Abbiamo ecco i 95.000 km. Sistema Touch con navigatore espandibile. Abbiamo il sistema di mantenimento della corsia. Il programma di parcheggio automatico. Climatizzatore automatico bizona. Cambio meccanico 6 rapporti. Freno a mano elettrico. Chiave con trasponder. Gli specchi sono naturalmente ribaltabili elettricamente e come anticipato abbiamo il Bose Sound. Vi mostro anche il sedile posteriore. In ottimo stato anch'esso. Questa Cajara è disponibile in pronta consegna. Viene venduta con 12 mesi di garanzia legale di conformità estendibile. Vi aspetto a Bussago presso il nostro autosalone Pasolini Auto per vederla, provarla ed eventualmente acquistarla. Grazie.